Salve amici e bentornati sul canale, oggi video easy, oggi parlerò soltanto, oggi quattro chiacchiere, quattro chiacchiere con Ale Bike Allora che dirvi, intanto oggi sto facendo un giro molto easy, molto tranquillo perché questa settimana ho già dato molto, nel senso sto già oltre i 200 km Quindi sto facendo un giro giusto per, come si dice in gergo, uno scarico, un giro tranquillo, senza medie esagerate e chilometraggi esagerati Farò giusto una quarantina di chilometri, sto andando a Roma in un bar che conosco a prendere la colazione per la famiglia, per mia moglie e per i bambini E inoltre ne approfitto di queste ore del mattino, ecco sono, adesso sono le 7 ma è già mezz'ora che sto girando Ne approfitto di queste ore perché sono le ore dove si può fare qualcosa, dopo inizia a fare caldo Siamo a luglio, siamo in quell'ondata di calore pazzesco che all'ombra arriva a 40 gradi E si può uscire massimo fino alle 10, 10 e mezza Oltre inizia a essere pericoloso, anche se si va verso le montagne insomma Dalle uscite fatte negli ultimi giorni, nelle ultime settimane Sembra che io abbia ritrovato la condizione Ossia confrontando le uscite Sembra che addirittura le medie siano superiori Quindi sono riuscito a tornare in condizione Il che mi è molto utile In vista del viaggio che farò a settembre E infatti in questo video volevo darvi qualche anticipazione Sarà un viaggio più faticoso rispetto a quello dell'anno scorso Perché saranno più chilometri, più giorni Ossia parliamo di una settimana di viaggio Sei giorni di pedalata continui Una media di 130 km al giorno Chilometro più, chilometro meno Come abbiamo visto, quindi salvo complicazioni Inoltre nelle prossime settimane cercherò di portarmi a casa Qualche altro obiettivo della mia lista Quindi ne approfitto in questi mesi Cioè in questo periodo dove ho ritrovato la mia condizione Perché sono obiettivi con un chilometraggio e dislivello importanti Nel frattempo sono arrivato al bar che vi dicevo Produzione propria di cornetti E vado a prendere i cornetti La marmellata c'è? Allora E allora Uno con l'albicocca Questa crema E uno con il pistacchio Ciao, buona giornata, buona domenica Beh ragazzi Sicuramente non saranno i cornetti più buoni di Roma Ma 5 cornetti 3,80 euro Sicuramente sono economici Se siete interessati lo trovate a via Casilina 1785 Altezza di via Borghesiana Cornettini messi al sicuro nella borsa sotto sella E si torna Un altro piccolo aggiornamento è che In questo periodo sto pedalando Con un ragazzo Del team T-Burlat Che avete visto Se avete visto l'intervista Era presente Era uno dei due intervistati Che Mi sta facendo molto bene questo tipo Di Di uscita Faccio circa un'uscita a settimana con lui Perché mi sprona A dare quel 20% in più Che altrimenti uscendo da solo Non darei Ma Per maggiori dettagli Ho in mente di farci un video dedicato Perché credo possa essere interessante Affrontare il discorso di uscire con persone Più forti di noi Con Federico È nata soprattutto perché Abbiamo Delle idee comuni Che ci piacerebbe sviluppare E che probabilmente svilupperemo Quindi Anche per questo Se siete curiosi Rimanete collegati Non mi sento di darvi troppe anticipazioni Perché non so Quanto faremo Di tutto quello Che stiamo dicendo Perché sicuramente La voglia c'è Sicuramente Siamo compatibili Ma Per queste cose Bisogna sempre trovare il tempo Quindi Vediamo Vediamo Io l'unica cosa che vi posso dire è Rimanete collegati Che prima o poi uscirà qualcosa Insomma Sicuramente qualcosa faremo Ora ragazzi Il mio giro si conclude qui 42 km A poco meno di 25 di media Un giro come ho detto Giusto per Scaricare le gambe Che sono molto pesanti Molto dure Si affaticano in fretta È stata una settimana dura per loro E quindi Si conclude anche il video Che alla fine È risultato essere giusto Un video aggiornamento Se vi è piaciuto Lasciate un like Iscrivetevi al canale Per non perdere Tutto ciò che accadrà Tutto ciò che accadrà Nei prossimi video Ciao ragazzi Al prossimo video Lasciate un like Ascoltare qualcosa Ascoltare Ascoltare Grazie a tutti